Buongiorno a tutti cari amici e sostenitori di Comip. Che dire, il progetto quando mamma e papà hanno qualcosa che non va è stato lanciato, però inutile dirlo, è dura, è dura, perché l'argomento dei figli che hanno una mamma e un papà che soffrono di un problema di salute mentale fa paura, fa tanta tanta paura, quindi non è facile arrivare nelle scuole, non è facile coinvolgere le persone in prima persona, ma noi non vogliamo e siamo già felicissimi che il Corriere Buone Notizie ci abbia concesso uno speciale, che abbiamo avuto già ben due testimonial che hanno messo la loro faccia e il loro cuore per sostenerci, e uno di questi è Peppe Dell'Acqua, che proprio oggi è sul giornale per noi. Per chi non lo sapesse, Peppe Dell'Acqua è stato allievo di Franco Basaglia, che ha ristituito la dignità a tutti i cittadini che nella loro vita hanno avuto un problema di salute mentale. La strada però è ancora lunga, anche Peppe lo sa bene, Siamo ancora molto lontani dall'uguaglianza tra salute fisica e salute mentale, siamo ancora lontanissimi da investimenti adeguati in prevenzione, siamo ancora molto lontani dalla cultura della salute mentale. Chi meglio di un figlio che ha una madre o un padre con un problema di salute mentale può compiere quel passaggio ulteriore. Perché dico questo? Perché mentre è difficilissimo identificarsi con l'avere un problema di salute mentale da parte di chi non ce l'ha, mentre non tutti diventano genitori, tutti siamo figli, se no non saremmo al mondo. Per cui la spinta che viene da chi è figlio può essere davvero potente. Per questo io faccio un appello a chi di voi è figlio di persone con disturbi psichici, a chi è venuto fuori con la voglia di riscattare quel dolore e trasformarlo in qualcosa di positivo, sfidando anche quell'imbarazzo, quella vergogna che si prova a parlarne, perché anche per me non è per niente facile, anche perché parlando della famiglia inevitabilmente metti a disagio qualcun altro che vive il problema sulla sua pelle. Quindi come conciliare queste due necessità, quella di dare voce al mio percorso, al mio dolore, alla mia resilienza, però allo stesso tempo rispettando e tutelando la riservatezza di chi comunque sceglie giustamente con un suo diritto di non rendere pubblica la sua situazione, perché questo va rispettato. Però noi con tanta passione e tanto coraggio lo possiamo fare, possiamo conciliare queste due spinte e quindi anche se a volte, avendo tanto già sofferto, avendo già tanto dato spesso dell'invisibilità alla propria famiglia, facendo tante rinunce, il desiderio sarebbe quello di finalmente sedersi, rifiatare e ricevere, purtroppo a me ci tocca ancora uno sforzo in più. Mi rivolgo a voi, figli e figlie, quelli che hanno energie, perché chi sa già ancora combattendo in trincea non ne ha, quindi ha il diritto di riposare, ma per quelli che stanno un pochino meglio, che sono riusciti in qualche modo a riscattare quel dolore, a trasformarlo, a renderlo bellezza, in qualunque modo possibile, io vi chiamo all'appello, perché soltanto noi che capiamo cosa vuol dire possiamo fare quel cambiamento, possiamo realizzare quel grande desiderio, non aspettiamo che siano altri a capirlo e a fare qualcosa, perché lo faranno nel modo che a loro sebrerà quello giusto, ma noi abbiamo anche il nostro, e insieme questi diversi modi di rispondere a un bisogno potranno cambiare il futuro dei ragazzi di domani. Quindi io ogni tanto mi prendo lo sconforto, perché non vi nego che insomma questa reticenza a parlare di questo, questo sì, questo aria un po' di quasi compatimento, ma oppure anche di paura, soltanto a pronunciare certe parole, no? Figli di genitori con disturbo mentale. Aiuto! Cerco di ripensare alla ragazza di 15 anni che sono stata, a come mi sentivo, a quello che avevo dentro, a cosa non riuscivo a dire, a non sapere con chi dire certe cose, tutto questo mi spinge a dire, se qualcuno al tempo avesse fatto quello che adesso sto provando a fare io, come mi sarei sentita? E se qualcuno si unisse a me adesso e facesse insieme a me questo cambiamento, come si sentirebbero i ragazzi che adesso sono di là seduti in un'aula e magari a casa hanno una mamma che sente le voci, o un padre che magari ha pensato di voler morire perché sta così male, che quella è l'unica via d'uscita? Oppure pensiamo ecco a quanto sarebbe molto molto più bello se tutto questo potesse essere gestito, accolto e soprattutto risolto. A me non piace mai quando mi sento dire eh vabbè ma tanto è inevitabile, tanto non ci si può fare niente. Una volta mi ricordo una psichiatra mi disse rassegnati perché faranno dentro e fuori le cliniche per tutta la loro vita. E io con questo pensiero ho detto ma se davanti a quella dottoressa ci fosse stata sua figlia, le avrebbe parlato in questo modo? Se il disturbo del genitore di quella ragazza fosse stato di tipo fisico, un tumore, le avrebbe parlato in quel modo? Questo mi spinge, mi spinge a dire io dico no, io voglio cambiare questo, posso cambiarlo ma non posso farlo da sola. Quindi io ringrazio gli 84 contributori che hanno finora partecipato alla nostra campagna di crowdfunding per realizzare questo grande desiderio, quello di portare la mini guida alla sopravvivenza per figli e genitori con disturbo mentale a tappeto a tutte le scuole e non solo di tutta Italia perché grazie a loro so di non essere sola in questa battaglia e so che là, in quella stanza, in quell'ufficio, in quella macchina, in quell'autobus, in quel parco cittadino ci sta un'altra persona che ha voglia di fare qualcosa e che aspetta solo l'occasione giusta per prendere il coraggio e iniziare. Ecco, io ti sto chiamando, aspetto te. Io vorrei uscire dal computer, vorrei arrivare davvero a incontrare i ragazzi, parlarci, ma non perché ho qualcosa da insegnare, io ho ancora tanto da imparare, sto ancora in cammino, ma perché semplicemente penso che potersi confrontare, guardare negli occhi qualcuno che ha passato quello che è passato te e vedere che ce la puoi fare, che non è detto che tu ti ammali automaticamente come il tuo genitore, ma anzi, e soprattutto che anche il tuo genitore può stare meglio con le cure giuste, con la psicoeducazione, con l'informazione, con l'abbattimento dello stigma, questa è l'inclusione sociale, quando la salute mentale diventa qualcosa di culturale, qualcosa che appartiene a ognuno di noi, alla società civile, di questo stiamo parlando, con il progetto quando mamma o papà hanno qualcosa che non va, noi vogliamo un futuro migliore, e lo possiamo avere, ma dobbiamo muoverci in primis noi, perché gli altri non sanno ancora benissimo cosa fare, come farlo, e cosa si prova, e quindi noi che lo sappiamo, davvero possiamo fare qualcosa, basta poco all'inizio, non serve molto, poi mi rivolgo anche, che ne so, a chi vuole contribuire, ma non ha la possibilità economica, non serve per forza il contributo economico, basta anche fare il passaparola del crowdfunding, del link del crowdfunding, oppure potete coinvolgere gli insegnanti della scuola dei vostri figli e proporre un incontro, potete organizzare una cena di raccolta fondi, da noi si usa molto fare il giro pizza, per cui si contatta un locale, si chiede la possibilità di poter organizzare un giro pizza, per cui una parte del ricavato della scena, va a sostegno di una causa che noi riteniamo importante, se avete, non so, una biblioteca, volete organizzare un incontro, noi siamo disponibili, perché la campagna di crowdfunding serve a questo, cioè non aspettiamo gli enti, le istituzioni, sì, se loro parteciperanno, sarà tutto di guadagnato, ma nel frattempo noi non possiamo aspettare, ci sono ragazzi che in questo momento stanno soffrendo, e anche i loro genitori, noi non possiamo accettare questo, senza fare niente, la battaglia è lunghissima, però si inizia da piccole cose, per cui se avete un locale, una scuola, una palestra, un circolo sportivo, organizziamoci, vediamoci, guardiamoci in faccia, iniziamo a parlare di questo, ma non per dire, poverini, mamma mia, che situazione tragica, noi vogliamo parlarne per cambiare, perché si può farlo, ma non aspettando che qualcuno dall'alto lo faccia, dobbiamo essere noi, le formichine che dal basso smuovono il sistema, e chi meglio di figli e figlie può farlo, la forza dell'amore filiale, ma anche dell'odio e della rabbia che possono venire, quando la situazione familiare è così pesante, che si possono provare anche questi sentimenti, parliamone veramente con apertura mentale, senza pregiudizio e senza barriere, e io credo molto nel potere delle cose fatte insieme, non so che altro tipi, se non che non molliamo, che andiamo avanti, ma sapere che ci siete, che siete con noi, è fondamentale, perché da soli non si va proprio da nessuna parte, questo ve lo assicuro, vi aspetto eh, www.comitrattivoitalia.org